Nel decimese, non dico chi l'hai cacciato sul sguardo e faccio i cittadini, comunque non dico che stai a vivere, quindi fanno una fetta libera, un figlio che abbiamo fatto con una fetta libera, va bene, dopo passerà una bellissima ragazza, c'è la bellissima ragazza, no? No, non lo diamo la bellissima ragazza, passerà il maestro, a chi ti passano? Ma noi, no, no, c'è una bella ragazza, c'è una bella ragazza che passerà e se mi può portare questi cittadini, ti mettono fette, veramente, quello che vuoi fare, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.